Amici di Why Not, tra qualche ora prenderò l'aereo per tornare in Italia dopo tre lunghi anni. E allo stesso tempo, qualche mese fa, ho compiuto i miei primi cinque anni della mia esperienza australiana. Ho quindi pensato di fare un video per accogliere qualche pensiero e qualche riflessione sulla vita all'estero, sul ritorno in Italia e insomma su tutto quello che è il mondo del cambiamento. Per farlo, cari amici, ho visto davanti a me questa forbice e ho detto che probabilmente mi potrà aiutare per spiegare quello che sento. Io sono arrivato in Australia nel 2017, nell'aprile del 2017. Il piano iniziale era per me di stare qui tre mesi. Dovevo soltanto vivere appunto 90 giorni qui in Australia. Era un periodo di tempo che mi ero preso perché io fondamentalmente vivevo bene in Italia e quindi non volevo e non pensavo ad un trasferimento definitivo all'estero. Quello a cui pensavo era una breve esperienza, una breve, diciamo, guardatina come era un film vecchio che secondo me è di Nicola Scheggi che si chiamava Family Man. Volevo guardare un pochettino la vita degli italiani all'estero di in prima persona. Volevo sentirmi un po' italiano all'estero anch'io. Ma allo stesso tempo non intendevo cambiare paese, non intendevo andare via dall'Italia nella quale io con tutti i suoi difetti mi trovavo tanto tanto bene. In famiglia ci vogliamo bene, con gli amici ci vogliamo bene. Io vengo da un paesino piccolo dove tutti si conoscono tutti, dove i miei migliori amici di oggi sono gli stessi amici con cui facevo l'asilo. Quindi il lasciare Arluno, il mio paesino, non era qualcosa che avevo in testa. Ma allo stesso tempo avevo e sentivo bisogno di cambiare aria, sentivo qualcosa di aver bisogno di qualcosa di nuovo. Così appunto in quel momento, in quel momento della mia vita è arrivata appunto l'occasione di venire qui in Australia. Tre mesi sono diventati cinque anni, ho raccontato in più video come appunto sono diventati cinque anni. E guardandomi indietro di cose ne sono successe. Non soltanto a livello mondiale, perché ovviamente negli ultimi tre anni è successo quello che non era successo nei vent'anni precedenti. Ma più che altro a livello di io come sono cambiato come persona e di come è cambiata un po' la percezione, la mia percezione da italiana all'estero. Allora innanzitutto io continuo a chiamare casa l'Italia. Ogni volta dico, ah sono a 16.000 km da casa. E ultimamente mi sono cominciato a chiedere e a fare delle domande a riguardo. Perché c'è una casa di là o casa di qua? Perché insomma cominci a sentire che effettivamente di case cominci a averne due. Da una parte c'è la casa in cui sei nato, in cui sei cresciuto, in cui hai costruito tutta la persona che sei oggi. Dall'altra invece è quella che ti sei costruito in questa nuova esperienza. E ora alle volte quando penso a casa, non vi dico la verità, penso anche all'Australia come casa. E ti accorgi di questa cosa quando cominci a fare degli acquisti senza guardare la data di scadenza del visto. Perché mi ricordo che all'inizio quando appunto il mio visto diceva da lì a tre mesi, poi è stato da lì a sei mesi, poi è stato da lì a nove mesi. Io mi ricordo che acquistare una macchina, acquistare un mobile per la casa, insomma non pensavo che vada a prendere qualcosa di nuovo, vada a prendere qualcosa che mi durerà negli anni. Pensavo al guarda devo stare qua qualche mese e vada a prendere quello che trovo in mezzo alla strada, che va bene comunque, gli do una pulitina ed è come nuovo. Poi in realtà da qualche tempo questa cosa è cambiata, ora quando acquisto qualcosa mi piace più acquistarlo nuovo che vecchio. E questa cosa mi fa capire che probabilmente appunto qualcosa è cambiato nella mia testa e qualcosa mi fa pensare che ho cominciato già da un po' a chiamare questo posto casa. Allo stesso tempo però la vita scorre, le cose accadono, i bambini nascono, le coppie si sposano e tra tutti questi avvenimenti che succedono ovviamente ci sono tanti avvenimenti a cui io non ci sono stato. Sono nati i bambini ai miei migliori amici, ci sono stati i compleanni importanti, sono venute a mancare delle persone a me molto care e in tutto questo io vivevo da questa parte del mondo quindi non ho potuto assistere di persona. E entri in un certo senso in una vita quasi parallela, come avere due vite che cominciano un pochettino a scorrere in maniera parallela. Una dove sei presente fisicamente e un'altra dove non sei presente fisicamente, dove sei presente più che altro emotivamente, sei presente nelle telefonate, nei vocal audio però sei come se fossi un pochettino una sorta di, come posso dire, di spettatore al cinema, stai guardando un film a cui non appartieni più. E questa è la cosa che un pochettino fa un po' male. E da lì mi è venuta in mente un po' la forbice, no? Perché quando si va all'estero a vivere, all'inizio ovviamente c'è una parte, come si chiamerà, come si chiama questa cosa? Non lo so, insomma, comunque c'è la parte destra della forbice che siamo noi quando andiamo all'estero e la parte sinistra invece è tutta la nostra famiglia, i nostri amici, il nostro mondo che stiamo per lasciare. All'inizio ovviamente questo mondo è più o meno vicino, è lo stesso mondo, no? Un giorno siamo lì, un altro giorno siamo dall'altra parte del mondo. Pian piano che passano gli anni, questi due mondi cominciano un pochettino ad allontanarsi, perché ovviamente i tuoi amici, la tua famiglia, le persone che hai lasciato continuano a fare la loro vita e continuano a vivere determinate cose nelle quali purtroppo tu non ci sei più, e dall'altro anche la tua vita comincia a crescere dall'altra parte del mondo. Alle volte penso ai miei amici o agli avvenimenti che mi succedono qua e allo stesso tempo penso che dall'altra parte del mondo nessuno conosce le persone che frequento qua, il che è abbastanza strano, perché appunto come vi ho detto io sono nato e cresciuto in un paesino piccolo, per cui le persone con cui, cioè tutti sanno tutto di tutti, no? E quando ti succede qualcosa tutti lo sanno, qui diventa molto più difficile. Quindi tu cominci a costruirti la tua vita e questi mondi si allontanano sempre di più. E alle volte te ne accorgi quando fai delle telefonate e insomma ti accorgi del come va tutto bene. In realtà c'è un mondo di qui e c'è un mondo di qua che andrebbe raccontato. E però il fatto di non avere lo stesso orario, il fatto di non vivere la stessa quotidianità, spesso e volentieri viene un pochettino, viene un po' tralasciato. E la paura che hai, la paura che ho, è ovviamente di non appartenere più alla vita che avevo lasciato. Di appartenere a quella vita soltanto come una sorta di ricordo, soltanto come una persona che non vive più lì, perché ovviamente non parteci più al quotidiano che prima invece ti vedeva sempre protagonista. Da questa parte tutto questo mondo qua non vive più quello che tu stai facendo qua. Tutte le tue vittorie, tutti i tuoi successi, tutti i tuoi momenti, quelli più belli, purtroppo non puoi condividerli con tutti quelli che vivono dall'altra parte del mondo e che vorresti tanto vicino a te per vedere quello che tu stai costruendo, quello che tu stai vivendo. E purtroppo questa cosa non la si può cambiare. Funziona così e sarà sempre così. E secondo me funzionerebbe così anche se invece di vivere a 20 ore di aereo, uno vivesse a un'ora di aereo, insomma, no? Perché poi la quotidianità è quello che fa un pochettino la differenza nella vita delle persone. E questo è un po' triste. Vi dico la verità, le volte quando ci penso mi intristisco un po', no? Però allo stesso tempo penso che tutto quello che sto costruendo di qua è un qualcosa che io voglio costruire, che mi fa felice. E dico sempre che se il mio quotidiano qui a Sinni non mi facesse felice avrei già fatto la valigia e sarei già tornato nel mio paese o sarei andato da un'altra parte. E quindi tutte quelle sensazioni che ti porti dentro nel tuo quotidiano o che mi porto dentro nel mio quotidiano qui a Sinni sono quelle che mi fanno dire e mi fanno pensare che sono sulla strada giusta. Purtroppo questa forbice continuerà sempre di più ad aumentare e a un certo punto si spaccherà anche perché farà il giro. E purtroppo non ci possiamo fare niente, almeno non ci posso fare niente se non trovare il modo di provare a raccontare tutto quello che ti succede, che ti passa per la testa, diciamo, più spesso. C'è anche da dire che probabilmente questa distanza forzata, questi tre anni che mi hanno visto lontano dal mio mondo e dalla mia famiglia hanno accentuato e stanno accentuando tanto queste differenze o questa mancanza di connessione, chiamiamola così. Fortunatamente adesso tra qualche giorno starò lì e non mi sembra ancora vero, vi dico la verità. Non mi sembra vero perché in questi due anni mi sono abituato, io come tanti, a vivere la mia famiglia attraverso una videochiamata o attraverso una nota vocale, una nota audio, attraverso un messaggio, attraverso un'email, però... No, un'email no. Però quello che voglio dire è che mi sono e ci siamo adattati a vivere una vita in maniera che non è completamente giusta. Pensate, nei primi due anni di Australia sono tornato indietro due volte e che fa pensare, no? Adesso io in tre anni non sono mai tornato e sono curiosissimo di vedere e di conoscere quello che troverò in questo momento in Italia. Sarà strano riabbracciare le persone, uscire a cena insieme, chiamarsi, oh per una birra, usciamo per una birra, beviamo un caffè, sarà molto strano. E sono curioso di sapere, vedere e sentire quello che accadrà in questa nuova esperienza, in questo nuovo ciclo di vita. Perché si può dire anche che in questi tre anni finirà una sorta di ciclo di vita. Perché, insomma, è successo qualcosa, siamo andati oltre, adesso si torna a casa e sono sicuro che qualsiasi cosa succederà da qua in poi sarà e farà parte di un nuovo ciclo di vita. E non è un caso che si stanno aprendo molte porte, stanno accadendo molte cose in questo momento e sono curiosissimo di vedere cosa ci sarà nel mio futuro. Però prima, prima, voglio finire tutto quello che c'ho da finire, voglio prendere un aereo, voglio andare in Italia e voglio godermi tutto quello che questa esperienza mi darà. Amici di Why Notte, ci tenevo a condividere con voi questi pensieri, queste riflessioni, ci tenevo a fare un video che ponesse e mettesse una sorta di punto a un periodo della mia vita. Appunto, cinque anni che vivo in Australia sono tanti e non avrei mai pensato di stare così tanto tempo qui. e allo stesso tempo tre anni, insomma, lontano da quella che è il mio mondo. Magari ci sentiamo tra qualche settimana e vi farò sapere e sentire e ascoltare le sensazioni. Per adesso, ciao!